Le spese obbligate delle famiglie italiane continuano ad aumentare. Secondo una stima dell'Ufficio Studi della CGA riferita al 2022, gli acquisti per gli alimentari e le bevande, per i trasporti e per la casa, sono stati sul totale della spesa mensile media di una famiglia italiana pari al 60%. In termini monetari vuol dire che, a fronte di una spesa mensile media pari a 2.016 euro, 1.202 euro l'anno scorso sono stati assorbiti dagli acquisti obbligati. 265 euro per benzina, gasolio e spese sui mezzi pubblici, 425 euro per la manutenzione della casa e per le bollette di luce, gas, spese condominali e infine 511 euro per il cibo e le bevande analcoliche. A causa del rincaro dei prezzi registrato l'anno scorso rispetto al 2021, si ipotizza che l'incidenza di questa tipologia di spesa sia cresciuta di 3,8 punti percentuali. Tra il 2021 e il 2022 le uscite per le spese obbligate della famiglia media italiana sono incrementate di 171 euro. Diversamente quelle complementari languono. Nonostante nel 2022 l'aumento medio dell'inflazione si sia attestato attorno all'8%, in termini assoluti l'incremento di questa tipologia di spesa si stima a nullo. Si ipotizza che negli ultimi due anni per acquistare alcolici, abbigliamento calzature, mobili tempo libero, ristorazione, ricettivo, istruzione, sanità, cura della persona, la famiglia media italiana abbia speso mensilmente 815 euro. Se la grande distribuzione organizzata e le vendite online hanno registrato risultati positivi, le attività commerciali e artigianali di piccola dimensione hanno invece visto peggiorare la propria condizione economica. Grazie a tutti.